Buongiorno a tutti, il mio nome è Agatario Agato e prevengo dalla classe Quartase, Teresa e da tutti i miei servizi. Oggi andiamo a preparare il nostro cocktail Erette Lava, ispirato così alla nostra meravigliosa Etna, che in questo periodo ci spuntano da paura ma è sempre perfetta. Andiamo a servire il nostro cocktail nella coppa mattini, quindi subito dopo andiamo a lasciarla. E la mettiamo da parte. Dopodichè andiamo a raffreddare la parte integrante del nostro shaker. Allora, per questo cocktail ho deciso di utilizzare tre celle di chin per dare struttura al nostro cocktail. Dopodichè, per contribuire alla struttura del nostro cocktail ho deciso di utilizzare tre celle di agro. Per aromatizzare, mi penso, ho deciso di utilizzare un gel e mezzo di succo di melograno. E infine un gel di succo di melograno. Andiamo a filtrare. Dopodichè andiamo a filtrare il nostro... un altro notte. Come guatinzione ho deciso di utilizzare dei chicchi di melograno che vanno a riguardare interi fiumi di lava. e poi una spirale di limone di cipi dell'Etna. ed ecco qui il nostro cocktail di lava è pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.